buonasera a tutti benvenuti nel canale benvenuti in un nuovissimo video oggi voglio mostrarvi come indossare i jeans più di tendenza del momento che sono assolutamente i wide leg jeans o comunque tutti quei jeans un po a vita alta ci sono anche a vita bassa ma diciamo che la vita alta va comunque un po sempre per la maggiore la vita bassa è stata riproposta per diverse stagioni di seguito però abbiamo visto che insomma l'acquirente ad oggi preferisce sicuramente la vita alta ad ogni modo sono questi jeans un po ampi sulla gamba che scendono anche un po a campana sono dei jeans a mio avviso molto belli a me piacciono molto mi piace molto l'effetto morbido e scivolato che hanno addosso trovo sia un jeans che bene o male si adatta veramente a tutti a tutte le corporature un po perché questa gamba larga un po va a nascondere chi magari ha delle cosce un po più abbondanti e per contro va invece ad ingrandire chi ha delle cosce sottili quindi diciamo che aiuta un po tutti i tipi di fisici voi sapete che io li amo sapete che ne ho tantissime paia e sono assolutamente jeans che per quanto mi riguarda nel mio armadio da quando sono arrivati vanno per la maggiore oggi vi mostrerò quattro paia di wide leg jeans che possedo io nell'armadio un paio di wide leg jeans completamente neri un pochino elasticizzati che stringono bene la vita e scendono con questo fondo ampio sono dei jeans che si possono veramente adattare a tantissime tantissime occasioni vi ho proposto per ogni paio di jeans due outfit uno un po più da giorno uno un po più da sera per quanto riguarda il secondo paio di jeans è invece un jeans sempre appunto wide leg dei toni chiari quindi con un lavaggio piuttosto chiaro un jeans che va benissimo da abbinare a contrasto anche con colori con colori un po più vivaci ma anche con dei colori saturi sta benissimo in entrambi i casi e poi vi ho proposto un wide leg jeans dai toni del grigio quindi un denim grigio che mi piace molto abbinare in questa stagione soprattutto con il bianco e con il nero trovo sia molto bene questi sono secondo me di jeans che stanno benissimo con le sneakers sono piuttosto elasticizzati e comodi l'unica pecca di questi jeans che ho già da qualche anno è che non hanno le tasche nella parte frontale questa per me è un po una pecca però insomma sono molto carini mi piacciono molto in giro se ne trovano veramente tanti e di diversi tipi vi lascio sotto in info box come sempre diversi link in cui poter andare a vedere tutti i vari capi insomma che vi propongo anche quelli che non ci sono più perché comunque io lavoro con l'armadio che a questo ricordiamoci come lo voglio ricordare perché a volte qualcuno se lo dimentica mi è anche stato proposto di acquistare capi per poi renderli no non fa parte della politica con cui lavoro io quindi mi dispiace non al mio caso il lavoro con ciò che ho sì sicuramente a volte mi capita di acquistare dei capi per fare dei video però sono capi che poi io comunque utilizzo nel tempo ad ogni modo l'ultimo paio di wide leg è un paio di jeans con un lavaggio medio queste qui sono sicuramente quelli più in voga del momento vanno portati piuttosto ampi in vita quindi magari prendete una taglia in più se vi va per seguire la tendenza oppure prendeteli della vostra taglia io in questo caso voluto un po cambiare gli ho acquistati un po più comodi sono molto lunghi quindi fanno un po di grumo diciamo nella parte inferiore il che non è il massimo soprattutto per le bassine come me ma chi se ne frega io volevo provare questa tendenza mai che vada li faccio accorciare non c'è nessun problema e questi li predeligo assolutamente con un po di tacco diciamo che con le sneakers non mi fanno impazzire proprio per questo fatto ma passiamo subito andiamo a vedere tutti i vari outfit che ho costruito oggi per voi per quanto riguarda il primo outfit mi sono concentrata su un total black o abbinato questo jeans con una blusa nera è questa una blusa che ho da diverso tempo non vi elencherò tutti i vari capi perché comunque come dicevo prima sono capi che io ho nell'armadio volevo creare questo outfit a colonna che andasse ad allungare un pochino la figura per dare un tocco in più all'outfit ho deciso di indossare le sling back leopardate che vanno a dare un tocco di grinta ma sono comunque eleganti una bella borsa a mano del look è veramente completo e pronto per essere indossato un look dai toni scuri semplice elegante che è perfetto insomma per un'uscita fuori serale per il secondo outfit sono andata a concentrarmi su un outfit che fosse piuttosto casual da giorno sono andata ad indossare una semplice t-shirt bianca un po abbondante che è un capo diciamo base per diversi di questi outfit e per quanto riguarda le scarpe mi sono concentrata su un paio di sling back che sono in assoluto le scarpe che io indosso di più in questa stagione sono delle sling back simil chanel acquistate l'anno scorso insomma con questo tacchetto basso comodo le potete trovare anche su amazon vi lascio il link sotto in descrizione ho abbinato sopra un semplice cardigan che è fatto un po a bomberino questo un cardigan in maglia di cotone un cotone un po pesante spesso perfetto per l'autunno possiamo togliere il cardigan tranquillamente quando fa più caldo quindi nelle ore nelle ore più calde della giornata ho voluto segnare in questo caso il punto vita con una cintura a doppio cerchio con perle questa qui è vecchissima ed è di H&M passiamo adesso invece al terzo outfit che è quello che ho costruito con i wide leg jeans dalla dalla colorazione diciamo più chiara sono andata in questo caso a costruire un outfit serale che è caratterizzato da un semplice top nero smanicato che in questo caso non si vede ma un top smanicato a costine che ho messo all'interno dei jeans e poi sono andata ad aggiungere sopra questo blazer stupendo in seta di lily silk che mi è stato regalato l'anno scorso questo blazer meraviglioso a tutti questi bottoni gioiello proprio per questo non ho voluto aggiungere cintura non ho voluto aggiungere niente per quanto riguarda le scarpe ho aggiunto delle sling back semplicemente nere molto pulite e per quanto invece riguarda la borsa ho aggiunto questa semplicissima mini bag di qualche anno fa di H&M passiamo adesso al quarto outfit che è un outfit un po più fresco un outfit un po più da giorno quindi un outfit che va bene per questa calura autunnale perché non so da voi ma qui da noi è pazzesco si sfiorano tranquillamente i 30 gradi di giorno e fa veramente ancora molto caldo quindi utilizzare capi che siano prettamente autunnali è un po sconsigliato ed è un po difficile per questo ci sono anche alcuni tessuti soprattutto per quanto riguarda magari i capi di sopra che io utilizzo ancora infatti in questo caso sono andata ad abbinare una camicia in lino ci sono persone che non utilizzano più il lino a settembre perché non si sa per quale motivo perché abbiamo un po questa sensazione che il 21 di settembre sia autunno purtroppo non è più così le stagioni si sono spostate in avanti secondo me dovrebbero proprio spostarle e dovremmo cambiare un po mentalità anche noi non possiamo non possiamo pensare di arrivare a settembre di iniziare ad utilizzare capi autunnali perché è una cosa infattibile proprio cioè qui è proprio da pantaloncini e maniche corte proprio per questo punto di creare un outfit leggero per tutte quelle persone che poi mi dicono ma io non indosso capi pesanti perché fa caldo avete ragione è vero io chiaramente propongo outfit autunnali ma in questo caso sono voluta proprio andare prettamente a alleggerire il tutto qui ho indossato una semplicissima camicia bianca in lino aperta nella parte frontale in modo da far intravedere un pochino il decolleté per allungare la figura ho mantenuto le maniche lunghe non le ho neanche arrotolate ho segnato il punto vita con una cinturina bianca sottile e ai piedi sono andata a mettere dei sandali color panna questi sandaletti che ho utilizzato durante tutte le estate e secondo me vanno ancora benissimo questo è un outfit piuttosto chiaro pulito potrebbe sembrare un outfit anche piuttosto estivo ma comunque i pantaloni lunghi e le maniche lunghe richiamano quella che è la stagione settembrina e di ottobre passiamo al quinto outfit con i wide leg jeans quelli in denim grigio chiaro qui ho aggiunto una semplice t shirt ho ricreato un look da giorno molto semplice e sportivo sono andata ad abbinare a tutto il look le mie sneakers dei puma quelle un pochino bombate di cui vi lascio link perché mi chiedete sempre di che marchio sono e dove io le abbia acquistate le ho acquistate su amazon le trovate e poi sono andata a mettere sopra le spalle per magari io penso sempre al mattino che fa un po più freddo ma non sempre qui fa più freschino soprattutto la sera sono andata a mettere questo semplice maglioncino per coprire le spalle e proteggermi da quello che può essere la frescura del mattino per quanto riguardo la borsa ho aggiunto una borsa semplicissima a tracolla che mi piace portare a mano perché credo sia più d'impatto con l'outfit sesto look un po più da sera ma qui direi che non è neanche tanto da sere diciamo più oro per appetitivo ma è un outfit che secondo me si può indossare tranquillamente anche di giorno ho voluto puntare sul gelè abbinato ad una semplicissima t shirt nera anche in questo caso infilata all'interno dei pantaloni ho mantenuto il gelè aperto per dare questo senso di verticalità al look ai piedi ho indossato le mie sling back nere del marchio only shoes anche queste acquittate su amazon bellissime queste ve le straconsiglio sono anche tra l'altro molto molto comode alla fine ho definito tutto il look con la mia borsa a mano di aldo che va a completare il look va a dargli quel tocco un po più serale rispetto magari ad una borsa che si può tenere a tracolla o a spalla passiamo al settimo look quello con i pantaloni dal lavaggio medio questi sono dei jeans come vi dicevo piuttosto lunghi ed abbondanti cui ho voluto giocare proprio sull'abbondanza sono andata a mettere all'interno dei pantaloni questa camicia lily silk a righe davvero stupenda bellissima anche questa l'ho lasciata aperta in modo che si potesse intravedere un po il decollete questa bellissima indossata con un bel reggiseno o con un bel con una bella bralette nera in pizzo che si fa intravedere mi piace tantissimo indossarla in questo modo per andare richiamare diciamo le righe della camicia sono andata ad indossare una cinturina nera sottile ai piedi anche in questo caso sling back nere che non che insomma che non guastano mai e come borsa invece sono adatta a richiamare il resto del look con la borsa bianca a mano questa qui di valentino bag passiamo adesso all'ultimo look l'ultimo look è un look dai toni un po più chiari ho indossato un top del marchio rioas con tutti questi bottoncini gioiello un top a costine elasticizzato davvero molto carino che amo indossare come sotto giacca anche perché è un po scollato fa intravedere anche in questo caso un pochino il decollete ma non in maniera eccessiva ho messo sopra questa giacca crop che ho dall'anno scorso di h&m questa è una giacca molto bella mi piace molto vi ho fatto anche il video sulle tendenze di quest'anno e queste giacche sono delle giacche che andranno tantissimo anche quest'anno sia per l'autunno che per l'inverno ho voluto mantenere il look un po più fresco puntando appunto sui sandali anche in questo caso quindi ho inserito che qui i sandali panna che richiamano tantissimo quello che è il top e la giacca e per quanto riguarda la borsa anche qui ho voluto mantenere dei toni chiali ed ho indossato la mia borsa color e crew di valentino bag quindi questi sono i miei consigli per indossare questo tipo di jeans così comodi che io adoro perché sapete che la comodità non può non far parte per quel che mi riguarda del mio guardaroba so che a tantissimi magari sembreranno degli outfit un po banali un po monocolore insomma io i colori che utilizzo sono sempre quelli lo sapete ma nessuno mi vieta di utilizzare come vi dicevo nell'altro video altri colori assolutamente se avete visto nel secondo look con il cardigan ho appunto aggiunto una borsa rossa che dava un tocco di colore quindi potete giocare la tranquillamente con gli accessori ma potete giocarvela anche con dei capi che siano comunque colorati vi consiglio chiaramente questo periodo per seguire un po il filone autunnale di optare per colori che siano un po più autunnali detto questo io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me spero il video vi sia piaciuto vi mando un grandissimo abbraccio come sempre noi ci vediamo sa e scusate domenica con il prossimo video a e ricordatevi di lasciare un like mi raccomando che è super super importante per il canale ciao